Con il maltempo tornano i disagi nell'erogazione idrica. Sicilia Acque ha comunicato in mattinata che a causa di un guasto all'impianto di sollevamento di Cozzo della Guardia, avvenuto nel pomeriggio di ieri e provocato, si legge nella nota, dalle eccezionali piogge, la fornitura ai serbatoi è stata dapprima interrotta e successivamente ripristinata, ma solo parzialmente. Tale diminuzione di portata ha determinato per la giornata odierna la sospensione dell'erogazione nelle zone servite in H24, ad eccezione del centro storico e nelle zone denominate Firrio, Santa Barbara, Gibilgabib, Viala Medeo, Asi, Stazzone e Angeli. Sicilia Acque intanto informa che verranno aggiornati ulteriormente i cittadini sull'andamento dei lavori. Problemi dunque per molte famiglie, i turni dell'erogazione idrica sono saltati, in alcuni quartieri si registrano gravi disagi per la popolazione. Si spera a questo punto che nel giro di qualche giorno la distribuzione possa tornare regolare, anche se il maltempo è previsto purtroppo per l'intera settimana e le condotte con la brodo del Nisseno potrebbero ulteriormente essere danneggiate.